Siamo coccodelli bianchi, siamo cresciuti insieme, Lombardia. Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che però oggi voglio dedicare a un grandissimo gitarrista, un grandissimo produttore che ha fatto la storia della musica italiana perché ha fatto parte di gruppi importantissimi e che purtroppo è scomparso proprio ieri. Oggi voglio dedicare a lui un vlog sulla sua vita, la sua carriera, i gruppi dei quali ha fatto parte e sono qui apposta per ricordarvi questo grandissimo artista. Quindi buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Cosa sei? Cosa sei? Voglio dire che sto male per amore E no, io non ci sto Alberto Radius era nato a Roma nel 1942 dove aveva iniziato la sua carriera musicale che poi lo avrebbe portato tra le tante cose a essere uno dei fondatori di Formula 3. Il suo esordio risale però alla metà degli anni 50 quando fece un gruppo che si chiamavano White Booster e poi appunto formò i Quelli che come ricorderete bene fu poi la band che diventerà la PFM, la premiata forneria Marconi. Qualche anno dopo con Tony Cicco, Gabriele e Lorenzi fonderai Formula 3, un gruppo musicale che viene prodotto dalla numero uno etichetta di Lucio Battisti. Per Battisti i Formula 3 incideranno un brano, questo folle sentimento che diventerà tre singoli più venduti in Italia di sempre. Il primo album del gruppo infatti è del 1970. La carriera di Radius però vive anche in maniera indipendente dal suo gruppo, infatti nel 1972 inciderà il suo primo album da solista. Nel 74 dopo lo scioglimento dei Formula 3, Radius insieme a Mario, Lavezzi ed altri fonderanno una nuova band. La sua carriera proseguirà nel 1976, quando arriva Che Cosa Sei e poi Carta Straccia, due album di importante successo. Nel frattempo molte saranno le collaborazioni con Battisti, ma anche con Marcella Bella, Pierangelo Bertoli, Cristiano Malgioglio, Franco Battiato, Milva, Giunni Russo, di cui a volte è stato anche il produttore. Nel 1978 infine apre lo studio Radius con cui inciderà i suoi album successivi. L'ultima apparizione pubblica di Alberto Radius è legata al festival di Saremo del 21, quando arriva sul palco con i Coma Cose nella serata delle cover e canterà Il mio canto libero di Battisti. Alberto Radius è morto a 80 anni dopo una lunga malattia.